Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 11 novembre, vediamo quali sono le notizie fondamentali, saluto tutti quanti gli amici su Facebook, tutti gli amici su Instagram, tutti gli amici che ci seguono sul mio canale YouTube e ovviamente tutti quelli che seguono il sito nicolaporro.it, tutti quelli, e così la finiamo, hanno un doppio saluto che hanno comprato il mio libro, stavo dicendo la disuguaglianza fa bene, no, le tasse invisibili, sono tantissimi, siamo alla terza ristampa delle tasse invisibili, ovviamente mandatemi sempre le foto che mi fanno godere come un pazzo del libro con voi sui miei social, avete modo di dire, ciao Laura, ciao Susanna, ciao Caterina, Mauro, Carlo Canavesi, Monica, insomma tanti che si stanno formando, diciamo, la platea del cinema di questa zuppa di porro di oggi, 11 novembre. Allora, la questione fondamentale di oggi ovviamente è triste, perché riguarda, come tutti quanti i giornali oggi ne parlano devo dire, soltanto la verità lo confina a un quattro righe di notizie, all'attacco che c'è stato in Iraq da parte evidentemente di alcuni terroristi dell'ISIS con una mina e con un attacco di quelli bigliacchi tipici di questi fanatici fondamentalisti islamici, nei confronti di una pattuglia di soldati italiani del colmo skin e della folgore, mi sembra di aver capito, tre di loro sono gravi, secondo le ricostruzioni due di loro addirittura gli si è stata amputata una gamba, voi capite cosa vuol dire per un ragazzo che fa e serve il suo paese, cosa vuol dire l'amputazione di una gamba in un momento non di guerra e ovviamente tutti quanti i giornali oggi si interrogano su che cosa sia successo, c'è un elemento di cronaca e c'è un elemento più politica. Cremonesi dice, le rivolte in realtà dal punto di vista del Corriere della Sera di Cremonesi, me lo ricordo Cremonesi, quello che pensava che il governo italiano fosse fascista nel 94 e mi ricordo ancora una diretta sua domanda ad Antonio Martino, pensate un po' voi ad Antonio Martino nel 94 in un viaggio in Israele in cui disse non a Martino ma al ministro degli esteri israeliano se il ministro degli esteri israeliano non si vergognava di avere vicino un ministro degli esteri cioè Martino che aveva fatto l'alleanza con i neofascisti. Apriamo e chiudiamo questa parentesi sull'equilibrio dei giornalisti italiani che tendono a sputtanarci nel mondo. La sua analisi di oggi di Cremonesi sul Corriere della Sera è che queste rivolte che ci sono in Iraq contro il governo stanno distogliendo l'attenzione dei militari iracheni dall'Isis ma alle rivolte di piazza e questo ne è il primo segnale. Questo è quello che dice Cremonesi Michalessin sul giornale oggi invece ha un punto di vista diverso dobbiamo restare in Iraq e vedrete che è l'unico punto di vista anche all'interno del centro-destra italiana degli operativi di destra le idee sono diverse, restare o non restare? Michalessin dobbiamo restare e ovviamente Michalessin è un figlio militare, sarà disperato anche lui come tutti noi di quello che è successo in Iraq ma dobbiamo restare perché la mole di informazioni di conoscenze e di esperienza che noi abbiamo stando lì sul fronte contro l'Isis è preziosissima per combatterlo in Europa. Questo è il punto di vista di Michalessin completamente diverso rispetto a quello di Feltri che oggi sul Libero dice ma che ci stiamo ancora a fare tra i cammellieri dove il serpente dell'Isis è fortissimo e nulla possiamo fare contro di esso. Secondo me si divide l'Italia in due ma un'Italia che non è politica è la solita Italia, ma non lo dico in termini dispregiativi, interventista è la solita Italia non interventista, insomma è la nostra storia che divide l'Italia tra quelli che vogliono e pensano che la guerra possa essere utile a qualche cosa e altri no. Orsini invece ci racconta sul messaggero che non sarebbe dal suo punto di vista un attacco mirato contro gli italiani che è il terzo grande elemento di questo attacco in realtà poi sfotte anche il Ministero della Difesa. Toc toc! Caro Ministero della Difesa, possiamo sapere quanti sono i militari che paghiamo noi in Iraq? Bene, Orsini dice che non si riesce a capire perché secondo il Ministero della Difesa in una pagina ce ne sarebbero 868 di militari in Iraq e nell'altra 1497. Queste sono le cose che legge Orsini sul Ministero della Difesa. Andiamo avanti sui giornali, ci sono due temi economici fondamentali, ne parleremo questa sera Quarta Repubblica, ci si può fidare di Conte che dice tutto è il contrario di tutto. Non solo si allea prima con i leghisti e poi con i pidini, non solo si allea prima con i verdi e poi con i rossi, ma il punto fondamentale è, dice qualsiasi cosa, è il Conte che a giugno ad Osaka diceva che lo scudo penale è una schifezza, non esiste nessun paese al mondo che può dare uno scudo penale agli investitori esteri ed ora sembra invece che stia trattando con Mittal, cioè con gli investitori esteri per ripristinare quello scudo penale. Allora vi devo dire che se avete tempo voi dovreste prendervi il foglio di oggi, comprare il foglio perché se volete nel futuro parlare di Ilva, nel bar con i vostri amici, farvi un'idea, non parlarne con nessuno, parlarne con la vostra amante, pensa tu che amante che palle che deve farsi se gli parlate di Ilva, se volete capire la storia dell'Ilva a partire da quando fu fatta, alla fine degli anni 60, quando fu progettata, quando fu investiti i primi miliardi, quando era del Little Seeder, quando è passata in Riva, quando è stata espropriata, quando i magistrati ci hanno lavorato sopra, ecco se volete sapere un bignami dell'Ilva che è quello che penso io, non leggete quello che io non ho scritto, anzi l'ho scritto in dieci anni di Ilva, ma leggetevi Bentivogli oggi sul foglio quotidiano, in cui fa un culo così ai sindacati, ai magistrati, anche se su quello non ha il coraggio di dirlo così esplicitamente come lo dico io, e soprattutto a questi cazzoni che tolgono lo scudo penale dopo che l'avevano garantito in tutti i modi, nessuno tocchi Conte, qualcuno di voi dice, no, Conte bisogna toccarlo per la sua insipienza, insipienza sulla questione che è pari a quella di Di Maio, non è che se c'ha il pochette nel taschino è più fico di Di Maio, che sembra ancora un po' un bibitano che si è messo la cravatta, questi due hanno fatto una minchiata sull'Ilva, pari forse quella di tutto il Parlamento, PD, Renziani, toc toc Renziani, avete votato anche voi contro lo scudo penale, oggi non fate i fenomeni, oggi ci sarà probabilmente un emendamento di Renziani che vuole reintrodurre, ma l'hanno votato contro e poi dopo una settimana lo vogliono reintrodurre, secondo voi gli italiani non la capiscono questa vostra folle posizione politica? Fate i fichetti, ma poi alla fine si segrete quella roba là, cioè i giochi parlamentari, questo è il punto, valgono per Renzi più di quanto evidentemente vale il salvataggio dell'Ilva, detto questo, sull'Ilva la storia, ve l'ho già detta, c'è di tutto, c'è la storia del Conte, c'è della magistratura, c'è dei sequestri del materiale, poi intervista Conte invece sul fatto oggi che dice basta parlare di scudo se Mittal non tiene l'Ilva e tutti gli operai, ma qui in realtà il punto è esattamente capovolto, siccome Conte ha tolto lo scudo, quelli si sono approfittati per andarsene, ricorda Bentivogli nel suo pezzo del foglio, guardate che non è da solo in Italia che stanno riducendo la produzione, siccome il mercato cala, hanno calato la produzione in Francia, in Portogallo, Financo in Germania, l'hanno calata ovunque, solo che qua gli stiamo a fare un culo così, magistrati e politici e quelli dicono, ma sapete che c'è di nuovo? Stiamo negli altri paesi del mondo, stiamo riducendo la produzione, qua ci rompete pure le palle, ma sapete che c'è di nuovo? Ciao belli! Ma come non poterli mettere... L'azienda vuol far profitti, non vuole con piacere Conte e Di Maio, peraltro chissà quanto, ecco, assumeranno gli esuberi dell'ILVA nella pubblica amministrazione, brava Romana, perché oggi mi sembra che sia libero che si accorge di quello che io vi ho detto ieri, che nel frattempo la pubblica amministrazione assumerà 450.000 persone, allora uno potrebbe dire che problema c'è, 10.000 dell'ILVA se ne vanno via, 10.000 dell'Alitalia se ne vanno via, tutti assunti nella pubblica amministrazione, c'è un piccolo problema che la pubblica amministrazione la paghiamo noi, allora io ieri ho ricevuto una lettera di uno stupendo nostro ascoltatore che fa il navigator, io non ce l'ho contro di lui e contro il navigator, vi è del tutto chiaro chi fa il suo mestiere nella pubblica amministrazione, financo chi fa il navigator e prova disperatamente a fare bene il suo mestiere, ha tutto il mio rispetto, il punto fondamentale che io cerco di dire, un paese fatto solo di navigator e burocrati purtroppo non può campare, per il semplice motivo che navigator e burocrati devono pagarli i contribuenti e se i contribuenti non guadagnano perché non lavorano, come faranno a pagare i burocrati? cioè non è che ci vuole, è banale, diciamo economia contadina, quella a cui io mi rifaccio quindi quello che sto cercando di dire, complimenti a quei pubblici dipendenti che fanno bene il loro mestiere, il punto fondamentale è che drammaticamente non ci sono più gli altri mestieri se non quelli da pubblico dipendente, questo è quello che disperatamente dico, all'Italia i giornali oggi dicono che si potrebbe chiudere con Delta e io dico cosa aspettavamo a chiudere con Delta, ma voi vi rendete conto che l'operazione Lufthansa, che tra l'altro ci avrebbe fatto un mazzo così ad All'Italia, nasce dal delirio, diciamo, no non vengo querelato, non diciamo che è un delirio, dai sogni di una parlamentare senatrice del Movimento 5 Stelle che era una hostess di All'Italia e quindi dall'alto della sua esperienza o come direbbe una deputata del PD, della mia inesperienza, l'idea era fare l'alleanza con Lufthansa, che poi leggo oggi sui giornali, era solo un'alleanza commerciale per andare in America, il che voleva dire che fottevano le rotte italiane e le gestivano i tedeschi. Con Delta l'operazione è, non so se buona o cattiva, ma è completamente diversa rispetto a quello che dicono oggi i giornali, ci mette i soldi, ci mette il cosiddetto equiti e stiamo parlando dell'azienda aerea più redidizia del mondo, io me la terrei cara finché abbiamo tempo, se no poi siamo fottuti e ci troviamo un'altra ilva. Poi, terzo tema della giornata, perde Sanchez e quindi, dice bene con cita De Gregorio, provava ad avere pieni poteri. Insomma, prende in giro Sanchez, il suo adorato socialista Sanchez perché ha provato a fare il Salvini. In realtà quello che è avvenuto è esattamente questo, quattro volte si vota in quattro anni, i socialisti cercano sempre di prendere i voti, non li vogliono votare, non gli vogliono dare la maggioranza. In sette mesi Vox è passato da 0 a 52 deputati, è il partito di questo Abascal, come cacchio, Abascal, come diavolo si chiama. Oggi leggendo i giornali mi rendo conto che in Spagna sono arrivati i fascisti. Beh, allora poi penso però, ragazzi, sono gli stessi fascisti che governano l'Italia, sono gli stessi giornalisti italiani come Goffredo Buccini che dice che in Italia, lo ha scritto sul Corriere della Sera, non esiste, la destra repubblicana non è mai antifascista, o meglio la destra repubblicana e antifascismo sono due ossimori, o meglio in realtà la destra italiana è sempre vicino ai fascisti. Siccome questi sono i giornalisti italiani che dicono che la destra italiana è sempre fascista, i leghisti sono fascisti, la Meloni è fascista, Berlusconi nel 94 era il Cavaliere Nero fascista perché si era alleato confini, allora siccome questo è sempre il retropensiero che c'hanno i giornalisti italiani nei confronti di noi, e io ben so che è esagerato il loro punto di vista, quando questi giornalisti italiani descrivono gli spagnoli che gli dicono fascisti, dove peraltro Franco, fino a pochi anni fa, insomma rispetto all'Italia ha durato tanti anni di più, c'è stato davvero, allora mi pongo un dubbio. Siamo sicuri che stanno raccontando bene la Spagna? Poi vedendo le ultime 3-4 righe del pezzo di Nicastro, oggi su Quelle della Sera, scopro che Vox è per l'abbassamento delle tasse, la privatizzazione delle pensioni, ops, la privatizzazione delle pensioni, questo mi sembra un liberista, questo mi sembra un reganiano dal punto di vista economico, molto distante, oserei dire, dalle minchiate socialiste di Lega e il movimento della Meloni, che hanno in economia qualche deriva, direi sinistra, quando mi fanno le loro supercazzole sull'importanza dello Stato e dei burocrati statali, no? Allora io forse Vox è diverso da questi destri italiani perché sono più liberisti, a quello che leggo su Nicastro, magari mi sbaglio, ma io non ho molto idea se questo sia del tutto vero, comunque tutti indignati per la vittoria di questi signori. Altre 2-3 notizie, Berlusconi si rompe davvero della Carfagna e dice, forse Italia sovranista, un ribaltamento della realtà, e devo dire la verità che Berlusconi in questo ha perfettamente ragione, perché dire che Berlusconi è il sovranista, far solo dire la Mara Carfagna, beh insomma io se fossi Berlusconi devo dire grande pazienza, fa pace con tutti, financo con me, però insomma farsi dire che un sovranista Berlusconi, francamente, Berlusconi di pratica di mare, l'amico di Putin, l'amico di Bush, ce ne avrà di tutti i colori, ma sovranista Berlusconi, a me sovranista, sembra il film di Verdone, in cui Mario Brega dice, fascista a me, quello era comunista, ma Berlusconi certo non si può dire sovranista, Usculture, sondaggio shock, ma voi ci credete della Repubblica che dice che 7 italiani su 10 sono a favore dello Usculture, io vorrei capire come gli hanno spiegato bene lo Usculture agli italiani perché è una roba che ha tanti profili diversi, cioè la possibilità di dare la cittadinanza italiana non a 18 anni ai ragazzini, ma dopo un percorso di studi, è questo che hanno chiesto evidentemente i sondaggisti di Repubblica e c'è questa straordinaria idea degli italiani che sono a favore delle Usculture, ma sono gli stessi italiani che sono razzisti e che Repubblica ci ha detto che sono amici dei fascisti e che sono fascisti e sono per lo giusto, mettetevi d'accordo no? Allora se gli italiani sono fascisti è difficile pensare che 7 su 10 siano a favore della bella Bissina, oh no, è una cosa fantastica, cioè vi è una poria logica in quello che dico, Repubblica ci ha raccontato un'Italia di fascisti, un'Italia antisemita, un'Italia che vota Salvini cattiva e brutta e oggi si dice che gli italiani sono a favore delle Usculture, 7 su 10, vabbè diciamo che sono fascisti 3 su 10 e quindi una larga minoranza di italiani, io la trovo veramente una presa per i fondelli, sia che gli italiani siano fascisti e antisemiti, sia che gli italiani siano così a favore di una cosa così complicata come lo Usculture. Facebook nel frattempo censura Krancic, un vignettista, non si riesce a capire perché i vignettisti quando non sono di sinistra sono censurabili, perché la satira va bene solo da una parte e non va bene dall'altra e Krancic dice chiedo asilo politico in Russia, si capisce, toc toc, che è una battuta. Il Sole 24 ore ci dice che in Italia sapete chi è che raccoglie le tasse? I sostituti d'imposta, 190 miliardi di euro, cioè che non paghiamo direttamente noi ma qualcuno paga per noi in maniera tale che noi non ci si renda conto, lo scrivo nelle tasse invisibili, la forza delle tasse. Se qualcuno mi toglie i soldi senza che io me ne accorga, come posso dire non ho quell'effetto di incazzamento quando vado direttamente a pagare le imposte. Se mi rendessi conto in maniera esplicita delle tasse che pago forse avrei tutti i giorni l'incazzatura che monta. Ecco, i sostituti d'imposta sono il segreto della tassa invisibile. Infine racconta questa vicenda sulle manette e gli evasori che in Italia diventeremo il paese tra i più duri del mondo. Complimenti. Cara Daniela, l'unico che ascolto sei tutti, ringrazio davvero. La Repubblica è il giornale più letto su Marte, dice il marinaio d'assalto. Mario dice giusto, ci prendono per i fondelli secondo Maria, mentre dall'altra parte vedo tanti altri amici che ci stanno seguendo e mi stanno salutando. Siamo italiani, siamo con Salvini, dice Anna. Bravo invece, Nin. Secondo me questa sera dobbiamo sorbirci una bella Quarta Repubblica. Vi ricordo alle 21.30. è una Quarta Repubblica dedicata a un tema molto semplice. Ci possiamo fidare di Conte che dice una cosa un giorno e poi ne fa un'altra il giorno dopo? È l'uomo che risolverebbe un'Italia che sta nel disastro economico? E ancora, secondo voi è davvero responsabilità della Meloni e di Salvini? Come ha scritto Saviano il fatto che la signora onorevole senatrice segre sia oggi sotto scorta? Ecco, di questo e di tanto altro parleremo come sempre a Quarta Repubblica. Cercate di essere numerosi come sempre perché il segno di un successo di una televisione che vuole parlare a voi e non urlare è proprio la vostra partecipazione alla faccia di quelli che ci vogliono tutti quanti chiusi e tutti quanti uguali. Ciao!